Buongiorno a tenere l'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e oggi è il venerdì 23 di luglio della 2021. Ormai anche luglio piano piano ci sta lasciando. Noi ringraziamo il Signore per questo tempo di lettura della parola di Dio. Non solo luglio se ne sta andando, ma noi vediamo anche che un'altra settimana per la grazia divina sta arrivando alla conclusione. Noi vogliamo chiudere questo venerdì, questa puntata di lettura della Bibbia in grande gloria, in grande gioia nel nostro cuore. Gloria a Dio naturalmente per la sua parola. Abbiamo un capitolo molto bello da leggere dal libro di secondo a Samuele. Ma prima di leggere questa porzione della parola di Dio voglio invitarti a partecipare con noi alla celebrazione domenicale. Domenica a Cesena e a Rimini celebrazione al Signore. A Cesena in via Romagna 268 alle ore 10.30. A Rimini invece in via Cesare Pavese numero 8 sempre alle ore 10.30. La parola di Dio predicata come in tante altre chiese che sono fedeli alla scrittura, che la vogliono dispensare, consegnare, insegnare, predicare e formare nuovi discepoli per la gloria di Cristo Gesù. Ma leggiamo la parola di Dio, quindi andiamo a leggere in questa puntata del 23 di luglio, il capitolo 22 di secondo, Samuele, parola del nostro Signore. Davide rivolse al Signore le parole di questo canto, quando il Signore lo liberò dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Egli disse, Egli dice, Egli dice, Egli dice,